ciao a tutti io con questo video volevo condividere con voi una gioia immensa che non è ancora quella di aver trovato la mia missione di vita perché non la so, ma quella di essere riuscita ad affrontare le mie più profonde paure il mio più profondo dolore che è saltato fuori in questi giorni in cui oltre al terremoto fisico c'è stato un terremoto interiore cioè una cosa enorme una cosa che non avrei mai immaginato innanzitutto che sarebbe uscita e poi che sarei stata capace di affrontarla il percorso è stato tosto ma mi riempie veramente il cuore di gioia perché quando si riescono ad affrontare le proprie paure poi in effetti il percorso non può essere che in discesa pertanto provata ma felice di quello che sta succedendo non vedo l'ora di scoprire quello che sarà il passo successivo e che sicuramente condividerò con voi quindi a presto